A zero ai lati. Ok, pelle giusto? Sì, in un certo punto, poi sfumati e sopra abbastanza corti. Sopra cosa faccio? Tolgo più della metà, giusto? Sempre da tenere un po' sul lato, ma corto. Sì, anche il ciuffo più corto. Perfetto, va bene, iniziamo. Perfetto, va bene, iniziamo. Perfetto, va bene.